Benvenuto, in questo brevissimo video voglio parlarvi della paratubercolosi. La paratubercolosi è una malattia che coinvolge la bovina da latte e che è trasmessa da un batterio, Mycobacterium avium paratubercolosis, per cui spesso voi lo troverete identificato con questa scritta. Il merito a questa patologia che determina gravissimi danni economici all'interno dell'allevamento, occorre trattare la malattia con specificità per cercare di spiegare in parole semplici all'allevatore come si trasmette. A questo merito ho appunto creato un video in cui si parla della patologia in maniera semplice e vi invito a vederlo. In poche parole la paratubercolosi è una malattia che quando è presente all'interno di un allevamento e non si fa nulla per controllarla, ha un andamento nel tempo di questo tipo. Se questa è la scala in termini di anni, 0, 5, 10 anni, nell'arco di 10 anni la patologia, presente anche in pochi casi all'interno dell'allevamento, tende ad aumentare in maniera esponenziale, facendo sì che il numero di bovine coinvolte nell'allevamento nell'arco di pochi anni tenda ad aumentare gradualmente in maniera incessante. Per cui una delle prime cose da fare per controllare la patologia al primo posto è la conoscenza della patologia stessa. Per cui altro non faccio in questo video se non chiedervi di ampliare la vostra conoscenza della patologia interagendo con il vostro veterinario di fiducia e cercando di farvi spiegare tutto. Oppure andando a vedere il video che per voi ho messo è creato gratuitamente su internet e ad altri video correlati fatti dalle istituzioni che vi consentono di capire come si trasmette la patologia all'interno del vostro allevamento di bovine da latte. Per il momento vi saluto, vi ringrazio dell'attenzione e buona visione dei video successivi.